Buongiorno amiche mie, quando vi si fa la domanda di quale sia il trucco che più vi piace e più vorreste avere sul vostro viso tutte mi rispondete, o almeno quasi tutte, lo Smoky Ice ma poi tutte avete paura di farlo ma perché? guardate che non è difficile oggi vediamo insieme come fare uno Smoky che non è per forza un trucco da passerella ma può essere anche un trucco che vorrei utilizzare la sera per uscire io ve lo realizzerò, lo realizzerò con il nero, classico Smoky ma poi la stessa cosa lo potreste fare con dei colori naturali e l'effetto sarebbe assolutamente più portabile anche per tutti i giorni allora, non lo faccio super tecnico, lo faccio ripetibile da casa matita nera ce l'avete tutte quindi cosa vado a fare con la matita? vado a tracciare una riga molto grandina senza fare attenzione a come la facciate fate prima l'occhio perché se vi cadessero le polveri o vi macchiasse la base dovreste togliere e rifare a quel punto sono sicura che poi non portereste a termine il trucco strucchereste e via quindi fate questo poi vi fate vi tracciate la palpebra praticamente non faccio attenzione a come la faccio cioè voi se aveste tracciato questa linea avreste detto oh mio dio, tolgo tutto prendo un pennello a penna un pennello grandino e prima faccio prima questo così non si asciuga perché comunque la mina un po' tende a sugarsi e comincio a sfumare la matita vi fermate ogni tanto se dovete battere l'occhio rimanendo qui nella vega e sfumando vedete che faccio in questo modo cominciate a far salire la sfumatura sempre in maniera tondeggiante se vi macchiate in questo modo non vi preoccupate togliete io per farvelo molto basico non ho messo neanche il primer ovviamente se mettete il primer sull'occhio viene meglio però voi siccome le prime volte farete molto esercizio non sprecate il prodotto e esercitatevi prima nella sfumatura quando sfumate vedete che all'interno dell'occhio io volutamente la parte centrale della palpebra non ho lasciato più chiaro ci vado comunque in sfumatura ma mi rimarrà otticamente più in fuori la cosa importante con questo tipo di trucco è proprio la sfumatura ci dovete perdere tempo quindi dovete stare qui finché non si amalghi bene la matita fate questo e passate sotto cosa ha lo smokey? ha lo scuro sopra e sotto in maniera è fatto sempre a dare colori scuro meglio e chiaro e entrambi sono riproposti sia nella parte superiore che nella parte inferiore qui andrò a scurire l'interno dell'occhio tutto ovviamente se avete un occhio che invece volete far diventare più grande oppure non volete stringere ulteriormente andate sotto le ciglia io vado anche a sporcare tra le ciglia qui fate molta attenzione prendo un pennellino a penna un po' più piccolo di quello che ho utilizzato e come vedete comincio a saturare praticamente tra le ciglia e vado ad unire qui la sfumatura anche qui dovrà cominciare a fare un effetto un po' tondeggiante ora questo è solo matita nera ma se io mi allontano da che sembrava un po' strocchio guardate l'occhio quanto è lo so sembrate ancora di panda probabilmente molti di voi si sarebbero già scoraggiate in questa fase e avrebbero tolto tutto no andate avanti vi faccio vedere faccio quello di là una volta che avete sfumato la matita e ripeto questa è solo esclusivamente per la matita sappiamo che come ho detto vanno tre colori quindi andrà un chiaro e uno scuro io prendo una palette con dei colori neutri sapete se seguite il tutorial che il grasso delle creme delle matite va fissato una polvere quindi io mi prendo l'ombretto nero e andrò praticamente a ripassare l'ombreggiatura che ho appena fatto amica mia io lo sto facendo col nero ripeto se questa cosa la voi l'aveste fatta con un colore chiaro l'effetto sarebbe stato molto più tranquillo però essendo lo smoginato con il nero ve lo faccio vedere con il nero poi se avete piacere scrivetemelo ve lo faccio vedere anche in altri toni anzi scegliete voi in che toni vi preferite che io ve lo facciate vedere vedete sto ribattendo sopra posso passare l'intermedio o il chiaro per praticità cosa faccio io anzi per furbezza mi passo prima il chiaro mescolo luminoso opaco qui solo sotto l'arcata perché se avessi passato l'intermedio vedete il chiaro poi scendendo lo avrebbe ombreggiato quindi invece creo questo stacco forte tra chiaro e scuro e poi con un colore tipo questo un tortora un grigio un intermedio tra i due create questa sfumatura che vi farà da colore ponte che poi è la vera propria sfumatura dello smoky salendo però sempre in questo modo vedete la caratteristica dello smoky è un occhio grande tondo poi se volete lo potete anche allungare ma nasce così ora che avete usato la maggior parte degli ombretti scuri potete andare a fare questo serviettina d'aurelio mi avete visto mettere infatti vedete lo scuro c'è anche se voi non lo vedete questa parte avrebbe alunato il correttore messo e quindi verrebbe fatto ingrigire la parte io sto togliendo tanto punto qua sotto se ci sono dei punti vedete scomodi li vado a togliere non ho messo il contorno occhi esattamente per questo ora me lo posso mettere perché la stesola del correttore rimarrà molto più comoda allora questo mascara lo piego davanti a voi così vi faccio vedere come il mascara non sia nato piegato perché a volte me lo chiedete ancora e siccome avete chiesto di provare un po' di cose di brand che potete trovare in profumeria questo è L'Oreal ora vi faccio vedere anche la base questo non è male perché ha il collagene e qual è la cosa positiva che non secca le ciglia quindi se lo volete ripassare durante il giorno non vi fa i grumi aspettate ho sbagliato prima di mettere il mascara una cosa fondamentale perché vi ho fatto lasciare questa parte qui più chiara perché lì ci va una cosa che va a illuminare quindi prima che roviniamo del tutto prendo ad esempio questo colore che è un po' assatinato e vado solo qui al centro a fare questo effetto di perlatura in questo tipo di trucco il mascara è bello anche sotto ma io sotto non ho ancora finito per terminare però devo fare prima la base perché sennò quando vado col correttore vado a cancellare tutto oggi vi faccio vedere la base L'Oreal così non mi dite che mi trucco sempre con le stesse cose sto utilizzando la Cor Parfait la mia pronuncia non è per nulla mare certo non è non è diciamo il brand a cui sono abituata però non è malaccio ha nella tonalità 2N in questo tipo di trucco la base deve essere molto eterea quindi non andate mai con un fondo troppo scuro anzi paradossalmente tipo fantasmino va benone correttore stessa linea colore sempre 2N cercate di non andare assolutamente sopra l'ombretto per quanto mi riguarda ad esempio questo 2N non ha la componente giusta di arancio da mettere quindi io ci metto un po' del mio 58 per andare a neutralizzare il blu dell'occhiaia come vedete lo potete tranquillamente miscelare con quello che avete per dare quella punta d'arancio non vado con un blush troppo evidente vado con quello in crema sempre l'oreal pure questo me l'avete visto utilizzare tantissime volte mi fa sia da blush che da illuminante non mi stancherò mai di dirlo ricordatevi che se dovete passare blush in crema e liquidi vanno passati prima della cipria questo colore più chiaro della linea si chiama si chiama ivory ma ve lo metto cosa mancava sotto il colore intermedio che passerete in sfumatura verso il basso non abbiate paura di scendere guardate quanto vado giù e vi da un'ombra e con il colore chiaro vado leggermente a schiarire qui e ora posso anche andarmi a mettere un po' di mascara qua sotto qualora voleste scaldarvi un po' nulla toglie che possiate andare con un po' di terra mi ombreggio anche la tempia è ora di colorare un po' le sopracciglia concludo con una tinta labbra sempre l'oreal così non mi dite che sono le stesse cose che è di quelle super resistenti lo scovolino in questo caso è molto comodo perché vede questo è piegato di su non l'ho piegato io va proprio sulle ciglia va proprio sulle labbra dai vi fa un po' meno paura adesso lo smokey eyes io spero che si provate tentate purate a farlo di altri colori la matita nera ce l'avete tutte quindi con la sfumatura potete già provare se volete che ve lo faccia di qualche colore in particolare scrivetemi per qualsiasi domanda a disposizione buona giornata amiche mie ciao